Buongiorno avvocato, mi dica, ha buone notizie per me? Purtroppo no Francesca, la Teresella ha sguinzagliato avversari potenti contro di lei. Sta diventando troppo pericolosa quella donna, inizia anche a sognarmela di notte. Non c'è proprio niente che io possa fare? In realtà un modo ci sarebbe per riuscire a batterla. Davvero? Deve girare... Il quarto episodio Oh merda!